No, un momento. Che c'è? Forse abbiamo interpretato male. Padre Sanchez, John, sentite. Ho scoperto una cosa nelle traduzioni. Guardate qui. Questa frase. Bivutà buzen maità. Cosa significa? In aramaico voleva dire amplificare. Credevo si riferisse solamente a una persona che passa energia a un'altra. Ma ora penso che non si limiti a questo. Di solito si dà energia e basta. Ma se la passiamo a qualcuno che a sua volta ce la restituisce, allora incrementiamo l'energia che è tra noi. Si amplifica, passando dall'uno all'altro. C'è scritto che se tutti lo facessero, l'umanità andrebbe ancora avanti nell'evoluzione. Dove ci porterà tutto questo? Forse la risposta è nella non-illuminazione. È lì. Non è vero. È lì che succederà. È lì che succederà. Non è vero. È lì che succederà. Grazie a tutti.